I migliori saluti dal liceo Norberto Rosa, mi scuso il Bussoleno, io sono il nuovo dirigente scolastico da quest'anno e sono vera di avere il privilegio di poter fare l'esperienza di dirigere un così importante scolico inserito in un territorio qua nella Valle di Susa. Ma che ha come utenza ragazzi che arrivano ben oltre la Valle di Susa, proprio la sua pregiata offerta formativa. E lungherò se non nel presentare gli indirizzi che poi verranno in maniera dettagliata esposti da professoresse referenti. Il liceo Norberto Susa ha un liceo classico storico con un archivio storico pregiato, degno di nota e conosciuto in tutta Italia, quindi il liceo classico globale su tutti gli indirizzi di studio pronto per essere utilizzato per qualsiasi carriera universitaria. Il liceo scienze umane, il liceo scienze dedicate con indirizzo scientifico e quello che mi fa particolare rappresentare è il liceo artistico che è unico sul territorio, offre veramente ai ragazzi l'opportunità di esprimersi a tutto il mondo. Quindi il liceo classico, il liceo delle scienze umane, il liceo scientifico tradizionale, il liceo scientifico con indirizzo scienze applicate e il liceo artistico. Non mi dilungo se non dirvi buon viaggio in questa esposizione del nostro amatissimo Norberto Rosa e speriamo di vedervi in presenza negli open day che vi verranno ricordati. La scuola è aperta e speriamo di vedervi numerosi sia nella sede di Susa che nella sede di Bussoleno. Lascio allora la parola alla professoressa che andrà ad elencare il primo indirizzo di studi. Grazie mille e buona visione a tutti. Buongiorno a tutti. Quest'anno invece che essere tutti sul divano di casa siamo qui per il salone in presenza e anche però per comunicare con chi magari oggi non riesce a venire qua e quindi può seguire la nostra presentazione anche a distanza. Io mi chiamo Laura Iguera, insegno scienze naturali al liceo di Bussoleno e sono anche una delle reggenti dell'orientamento. La mia voce non è al massimo, spero che regga 10 t per fare appunto questa presentazione. Come diceva la nostra dirigente, noi siamo un unico istituto, forse possiamo anche far partire le slide che così ci aiutano nella presentazione. Siamo appunto un unico istituto ma con una a Susa di fronte praticamente alle scuole medie dove siamo ora e una a Bussoleno per vedere in queste immagini. Un unico istituto con due sedi, cinque indirizzi e quindi anche delle anime diverse perché per quanto siamo tutti appunto appartenenti all'artrosi in realtà poi ci sono delle peculiarità di ciascun indirizzo. Diciamo che il clima che respira nella scuola è unica però appunto poi ogni indirizzo ha delle sue specificità che andremo a spiegarvi. Sappiamo quando andiamo a fare i nostri interventi in tv, andiamo nelle scuole medie, incontriamo tanti ragazzi di terza media, sappiamo a volte essere forse addirittura un po' noiose, nel che riteniamo che fornire questo servizio di orientamento voglia dire dare delle informazioni precise e anche approfondite, rischio appunto di risultare talvolta un pochino pesanti e troiosi, però riteniamo che l'obiettivo non sia con video accattivanti o altri prodotti multimediali che peraltro sul nostro sito sono anche presenti. Riteniamo invece che l'obiettivo dell'orientamento sia quello appunto di favorire una scelta il più consapevole possibile da parte dei ragazzini e una scelta più consapevole possibile secondo noi si può fare se uno ha le idee un po' più chiare di quello che lo aspetta. La lunga esperienza in questo settore dell'orientamento ci ha fatto capire che talvolta le aspettative dei ragazzini non sono poi, si discostano diciamo da quello che poi davvero trovano. Fare una scelta a quest'età non è assolutamente facile, soprattutto al giorno d'oggi e quindi appunto l'obiettivo nostro è proprio quello di poter dare degli appigli, di poter dare una bustola per poter questa scelta essendo consapevoli di quello che andremo appunto a trovare al Norberto Rosa. E quindi adesso appunto cominceremo, sperando di non essere in realtà poi troppo noiosi, cominceremo a presentarvi i diversi indirizzi del nostro liceo e andiamo proprio nella sede di Susa che è la sede classica, nel senso non solo perché c'è il liceo classico ma perché è veramente una sede storica e quindi lascio la parola alla mia collega Lorella Derisi che vi parlerà del liceo classico e del liceo delle scienze umane. Buongiorno a tutti, sono Lorella Derisi, legno un senso di indirizzo classico, un senso di indirizzo di scienze umane, una serie letterale, quindi latino, italiano, fatto e storia. Il liceo classico, la sede di un liceo collega, la sede storica del liceo Norberto Rosa e ospita questi due indirizzi. Sono due indirizzi per alcuni affini, in quanto le materie caratterizzanti sono soprattutto le materie umanistiche. Il liceo classico è però l'indirizzo in cui più caratterizzanti sono proprio la lingua e la letteratura greca, la lingua e la letteratura latina. Il liceo che forma il cittadino, da una formazione a 360 gradi, potremmo dire una formazione umanistica e classica, che però si coniuga, anzi non si deve proprio mai pensare che ci sia una frattura fra le scienze, fra le materie più scientifiche e le materie classiche, poiché l'indirizzo classico è proprio un indirizzo che dà impetenze per poter poi proseguire negli studi su qualsiasi formazione, su qualsiasi facoltà universitaria. Perché proprio lo studio delle lingue classiche permette di formarsi una competenza trasversale sul lessico, sulla cultura classica, che permette poi di affrontare qualsiasi percorso universitario. Anche appunto quel FIC, abbiamo moltissimi studenti, anche studenti di molti anni fa, che poi hanno proseguito gli studi in campo fisica, matematica, i risultati, ci possiamo anche pregiare di studenti famosi che hanno frequentato il classico e che adesso sono al CERN, a Ginevra o in facoltà universitarie come docenti, eccetera. Bisogna un po' sfatare questo pregiudizio per cui chi frequenta il liceo classico poi non può proseguire con facoltà scientifiche, medicina, eccetera. Perché appunto le materie classiche, lo studio dei classici, formano lo studente anche e soprattutto nel metodo, nella metodologia per cui i ragazzi imparano, acquisiscono una capacità critica che permette loro di affrontare ogni tipo, per cui anche il problem solving che è richiesto nelle aziende per esempio, anche quello è molto sviluppato e quindi sappiamo che sono molto ricercati anche dalle aziende economiche, insomma in tutti i campi. Le materie che si studiano sono letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca con un numero di ore consistenti, ma ci sono ovviamente anche lingua e straniera, quindi l'inglese, la storia, la filosofia che comincia però dal triennio, quindi dal terzo anno. La matematica è stata potenziata per cui da tre ore venivano svolte negli anni precedenti, ora ci sono ben quattro, quindi c'è stato un potenziamento nell'area scientifica. Le scienze naturali, la storia dell'arte, anche questa a partire dal triennio e poi scienze motorie, sportive e quindi è religione cattolico, attività alternative. Il liceo classico a differenza del liceo di scienze umane ha un'ora in più nel biegno e un'ora in più nel triennio, quindi le ore sono nel classico leggermente maggiori. Il liceo delle scienze umane è invece orientato verso il sociale, quindi verso le materie caratterizzanti sono appunto le scienze umane che comprendono la pedagogia, la psicologia, la sociologia, la sociologia, quindi materie che è proprio una formazione anche approfondita su questa area legata a quelle materie che un tempo erano la socio-psicopedagogia, il liceo è nato in quel modo e quindi danno una forma, certo può essere ottimamente spesa nelle facoltà universitarie quali psicologia, scienze politiche, ma comunque anche nelle materie legate all'insegnamento per cui scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, insomma forniscono un ampio spettro di possibilità all'università. Naturalmente i licei poi non bisogna mai dimenticare che comunque sono maturità quinquennale e quindi si può anche terminare gli studi lì, partecipare a concorsi nei vari enti, insomma essere assunti anche con il diploma, anche questo è un altro mito da fare per cui se faccio il liceo poi devo assolutamente proseguire all'università, anche questo non è così vero, insomma. Gli orari, Susa è fornita, per quanto riguarda i trasporti, la logistica, i ragazzi arrivano con il treno alla stazione, poi ci sono circa dieci minuti, insomma a piedi per raggiungere l'istituto, nel bienio sono oggi per entrambi gli indirizzi con due giorni in 814, però appunto ci sono i servizi di pullman e il treno e quindi molto comodi e molto agevoli, non ci sono problemi di questo tipo. Abbiamo poi molti, abbiamo dei laboratori anche noi, laboratorio di informatica, laboratorio di scienze, laboratorio di lingue straniere e soprattutto cerchiamo anche di utilizzare una metodologia che non sia soltanto la lezione frontale ma anche lezioni interattive, lezioni partecipate attraverso anche nuove metodologie come il debate, il cooperative learning o comunque anche utilizzare, spesso cercare di offrire ai ragazzi esperienze di tipo diverso come conferenze, incontri in cui possano mettersi proprio alla prova e acquisire competenze diverse l'ambito appunto della comunicazione e ci sono poi offerte, poi anche le colleghe ne parleranno sia per Susa che per Berbusso, come il laboratorio teatrale che è veramente un laboratorio di alto livello, così come il laboratorio di musica, il coro dell'istituto e poi appunto anche in altri ambiti ma passo la parola alla collega che potrà meglio spiegare questi altri progetti. Grazie. Sì, passiamo la parola alla collega Laura De Benedetti e andiamo nella sede di Bussoleno, quindi ci spostiamo a Bussoleno e la collega è la referente del liceo artistico che è l'ultimo arrivato, ormai però è già da qualche anno, sta crescendo e come diceva la nostra dirigente si tratta dell'unico liceo artistico in Valle di Susa e quindi è sicuramente una grande opportunità per quei ragazzi che fino a una decina di anni fa magari erano intenzionati a fare liceo artistico ma non per tutti era così facile o possibile andare a Torino e quindi talvolta ci sono state delle rinunce, hanno poi fatto scelte diverse. Adesso invece è possibile iscriversi al liceo artistico di Bussoleno e la collega ve ne parlerà nel dettaglio. Sì, buongiorno, il liceo artistico ormai è giunto al suo nono anno di vita e gli studenti che oggi frequentano la terza media se decideranno di iscriversi al liceo artistico festeggeranno con noi il decennale e in effetti questo liceo ha colmato proprio un vuoto formativo e nell'offerta formativa della Valle di Susa che come tutti sappiamo è un territorio che è veramente uno scrigno infinito di tesori d'arte e quindi era veramente un grosso, un grossissimo vuoto. Il liceo artistico dunque si articola secondo le indicazioni nazionali proprio con la grande riforma dei licei e il liceo artistico non è più solo istituto d'arte come era nel passato ma consente agli studenti una formazione liceale completa. Se osserviamo il quadro orario possiamo infatti renderci conto che la base della cultura proprio di tutte le discipline formative di base è esattamente uguale, varia semplicemente nel numero di ore ma è una variazione minima e quindi consente una preparazione attraverso tutte le discipline comuni, cosiddette comuni, quindi italiano, la lingua straniera inglese, storia e geografia che poi nel triennio diventa come in tutti i licei storia e filosofia e questa era una grande mancanza nella formazione artistica precedente alla licealizzazione. Le materie di indirizzo quindi sono quelle che vedete nella parte bassa del piano orario e si definiscono discipline, quindi discipline grafiche pittoriche, discipline geometriche e discipline plastico scultore, ovvero sono le materie ed è interessante questo plurale perché sono materie estremamente diversificate e diversificanti, nel senso che i ragazzi in queste ore, che sono molte, si arriva a 13 ore nelle materie di indirizzo, quindi sono tante le ore e poi spiegherò perché, in queste materie davvero si sviluppano tante tecniche, quindi ogni ragazzo, e questa è un po' la caratteristica, l'elemento identitario del nostro liceo artistico perché è un liceo piccolo e quindi ogni ragazzo può tirare fuori veramente l'artista che è in lui, perché le materie artistiche, l'istruzione artistica che tra l'altro è unica nell'istruzione italiana, proprio il liceo artistico è davvero un'eccellenza nel panorama dell'istruzione italiana, permette veramente a ogni ragazzo di tirare fuori quello che è dentro di lui attraverso linguaggi diversissimi, noi abbiamo scelto nel triennio, dove si poteva fare una scelta a livello di indirizzo, abbiamo scelto le arti figurative, perché le arti figurative consentono un ventaglio di metodi, canali, espressivi veramente ampio, gli altri indirizzi tendono a chiudere su una competenza, l'arte figurative tende ad aprire e questo cosa consente agli studenti? Consente di svolgere poi al termine del liceo delle scelte molto diverse, noi abbiamo studenti che vanno al Politecnico per esempio e frequentano il design al Politecnico, si iscrivono ad Architettura, all'Accademia delle Belle Arti che naturalmente è la scelta naturale dopo il liceo artistico, ma non solo, la scuola di restauro di Venaria ad esempio, se notate in terza e quarta c'è una materia che è unica, non esiste neanche nel liceo scientifico, che è la chimica dei materiali ed è una materia nella quale gli studenti imparano veramente a conoscere i materiali e quindi possono poi continuare ad esempio un percorso nell'ambito del restauro e della conservazione, ma il monte orario delle materie comuni consente anche sbocchi in corsi di laurea che sono assolutamente diversi dall'arte, ad esempio biologia piuttosto che chimica, piuttosto che abbiamo addirittura studenti che stanno frequentando con successo giurisprudenza. E quindi concludendo, quello che il liceo artistico consente è veramente una grande flessibilità, una preparazione di base solida, perché Onorberto Rosa ha questa caratteristica comune degli indirizzi, una grande serietà e non solo, proprio la possibilità di essere flessibili in un tempo difficile, quello che stiamo vivendo, la capacità di essere flessibili, di trovare soluzioni diverse, di imparare a vedere le cose da punti di vista diversi e questo il linguaggio dell'arte lo consente quotidianamente e ci mette continuamente alla prova in questa direzione. E dunque è un liceo che può davvero consentire ai futuri nostri cittadini di trovare una strada e di saperla percorrere con sicurezza. Bene, allora resta a me il compito di illustrare invece il liceo scientifico di Bussoleno e diciamo i due cugini, abbiamo il liceo scientifico cosiddetto tradizionale e il liceo scientifico opzione scienze applicate. Sono due indirizzi di studio molto simili nell'impianto di base, però con alcune differenze che non sono da trascurare, proprio per il discorso a cui accennavo prima, di poter fare una scelta che sia il più vicina possibile alle attitudini, perlomeno alle attitudini che i ragazzi hanno in questo momento della loro vita. Poi naturalmente sappiamo che si cambia, però visto che la scelta va fatta probabilmente conviene farla valorizzando le attitudini personali del momento. Allora cominciamo con il liceo scientifico tradizionale che a discapito del nome scientifico in realtà fornisce una preparazione anche molto solida sul versante umanistico, non soltanto per il fatto che è presente la lingua e la letteratura latina, ma anche perché le materie afferenti all'area umanistica sono più approfondite. Per esempio nel triennio c'è un'ora in più di filosofia rispetto al piano di studi delle scienze applicate. Naturalmente ci sono tutte le materie dell'area scientifica, la fisica e la matematica e le scienze naturali. Le scienze naturali però con un numero di ore decisamente più ridotto rispetto a quello delle scienze applicate, quindi questa è un'altra differenza da non sottovalutare. Per quanto riguarda l'aspetto più scientifico, quindi il corso proprio delle materie matematica e fisica, ecco in tutte le scuole superiori naturalmente la matematica è presente, non ci sono scuole dove non si possa non studiare matematica perché fa parte proprio della formazione di ciascuno, però la matematica del liceo scientifico e anche delle scienze applicate perché i programmi sono assolutamente lo stesso il programma, è una matematica più approfondita, è una matematica solida, importante, è una materia con la quale i ragazzi hanno a che fare tutti i giorni della settimana, praticamente anche solo come numero di ore. Ecco, quindi questo per sottolineare rispetto alle attitudini degli studenti che certamente se uno diciamo non ha proprio un ottimo rapporto con questa materia, premesso che poi le cose possono cambiare, però se uno con la matematica insomma incontra già qualche difficoltà o ha incontrato qualche difficoltà, ecco forse è il caso di riflettere sulla scelta del liceo scientifico perché diventa poi veramente molto impegnativa come materia. Dunque, il liceo scientifico tradizionale offre una solida preparazione e permette anche con lo studio della lingua latina di potenziare le capacità linguistiche dei ragazzi, di favorire anche poi l'apprendimento delle altre lingue, delle lingue straniere. A proposito di miti da sfatare, il latino è spesso considerato una lingua morta, ma le nostre colleghe di indirizzo insomma della materia ci dicono che non è proprio così e proponiamo nelle nostre varie attività di orientamento, ve ne parleremo dopo, anche un laboratorio letterario che cerca proprio di sfatare questo luogo comune che il latino sia una lingua morta e anzi è molto più presente persino nella lingua inglese di quanto noi possiamo sospettare. Quindi c'è questo laboratorio molto interessante che una nostra collega propone e che fa proprio riflettere i ragazzi sul fatto che forse è molto meno morta di come potremmo pensare la lingua latina. Naturalmente in uscita dal liceo scientifico tutte le scelte di proseguimento degli studi a livello universitario, ossia corsi di laurea brevi, lunghi o formazione e istruzione tecnica superiore sono possibili perché è veramente un percorso di studi completo a 360 gradi quindi non chiude alcuna porta ma d'altronde nemmeno gli altri indirizzi lo fanno come giustamente dicevano prima le mie colleghe. Ancora due parole sull'opzione scienze applicate perché abbiamo detto che sono appunto due indirizzi di studio simili ma con qualche differenza, alcune le ho già evidenziate, voglio ancora mettere in evidenza che nel liceo delle scienze applicate, che sottolineo essere un liceo quindi non dobbiamo mai pensare che nonostante il nome applicate si avvicini troppo a un istituto tecnico cioè che ci siano delle materie che sono molto applicative. Ci sono nel senso che alcune materie tipo l'informatica, tipo le scienze naturali, tipo il disegno tecnico, hanno questo risvolto applicativo però siccome si tratta di un liceo la parte teorica, l'approfondimento teorico è sempre molto presente e molto importante. Dicevo l'informatica, l'informatica è presente nel liceo delle scienze applicate dove non c'è appunto la lingua e la letteratura latina ed è l'unico indirizzo di liceo che prevede proprio lo studio specifico di questa disciplina informatica che però attenzione non vuol dire solo andare al computer, smanettare, divertirsi e giocare ma vuol dire anche proprio imparare il linguaggio dell'informatica quindi imparare a programmare, imparare a capire come funzionano tutte le nostre, tutti i nostri dispositivi tecnologici che abbiamo nella nostra vita sempre più presenti. Ecco ho cercato appunto in estrema sintesi di illustrare le analogie e le differenze, anche il liceo delle scienze applicate dove appunto sottolineo ancora una volta le ore di scienze naturali sono comunque molto più abbondanti soprattutto nel triennio quindi questo è un aspetto da considerare quando si fa questa scelta, si fa molta chimica, molta biologia, molte scienze della terra, si approfondisce di più, si lascia anche più spazio alla didattica laboratoriale rispetto al liceo scientifico se non altro perché il Monte Ore lo permette maggiormente. In uscita dalle scienze applicate anche qui non si chiudono porte, diciamo che moltissimi studenti si orientano poi verso il Politecnico piuttosto che chimica, fisica, insomma tutte le facoltà scientifiche ma anche qui non è così raro trovare studenti che poi fanno scelte diverse e si iscrivono a economia, giurisprudenza, storia, addirittura psicologia ci è capitato e quindi è comunque un liceo che fornisce una solida preparazione per affrontare qualunque percorso futuro. A questo punto vorrei ricordare alcuni appuntamenti e alcune iniziative che quest'anno in presenza siamo tornati a svolgere e innanzitutto i prossimi appuntamenti sono gli open day presso le due sedi del nostro liceo, il sabato 19 novembre, quindi sabato prossimo con orari leggermente diversi, SUSE Bussoleno e poi sabato 3 dicembre. La partecipazione agli open day è possibile su prenotazione e quindi quello che vi consigliamo di fare è di visitare il nostro sito, vedete l'indirizzo appunto riportato qui sotto, non solo per appunto poter prenotare la partecipazione alle diverse iniziative ma anche perché sul sito troverete del materiale interessante, troverete non soltanto approfondimenti sui vari indirizzi ma troverete dei video, troverete delle testimonianze di ex alunni del liceo che sono molto interessanti da ascoltare e troverete anche alcuni video girati da ragazzi del nostro liceo, alcune opere del liceo artistico che adesso magari qualche cosa potremmo forse far vedere mi dicono di no quindi le vedrete poi sul sito e voglio ancora ricordarvi che un'altra iniziativa interessante per i ragazzi è venire a provare i nostri laboratori, laboratori che riguardano diverse discipline di indirizzo quindi per esempio per la sede di Bussoleno laboratorio di fisica, di informatica, di scienze, di latino e artistico e per la sede di Susa invece il laboratorio letterario e il laboratorio di scienze umane. Anche questi sono quest'anno ed è una novità solo su prenotazione individuale quindi non passano attraverso le scuole medie ma la partecipazione appunto a livello singolo e con questo direi che è tutto perché il salone dell'orientamento è oggi e quindi siamo qui.